I parcheggi sul lungomare sud di Pescara e nell'area prospicente alla rotonda della meridiana diventano a pagamento tutti i giorni della settimana, a differenza di quello che accade invece sulla riviera nord. Si tratta, sostiene la FIBA Confesercenti, di una sorpresa amara e che va a rappresentare un vero e proprio attacco frontale agli stabilimenti balneari e alle attività della zona sud di Pescara. Le associazioni di categoria e in particolare proprio FIBA Confesercenti esprime così tutto il suo malumore, la sua contrarietà a questa decisione e chiede all'amministrazione comunale di ripensarci o quantomeno di rivedere le tariffe. L'amministrazione non ha coinvolto le associazioni, ha preso questa decisione in maniera unilaterale in un momento di ripresa mettere questa che fondamentalmente non è altro che una tassa aggiuntiva a carico delle famiglie, degli avventori della spiaggia in questo momento ci sembra veramente un qualcosa che è controproducente. Anche perché, come dire, se io decido di andare a fermarmi per mangiare un piatto di pasta al mare in quella zona, significa che devo pagarmi il pranzo più o una sua tassa di 3 euro per un periodo limitato di tempo, nel senso che potevano decidere, sentendo le associazioni, anche di fare zone differenziate di parcheggio, parcheggi a 3 euro per l'intera giornata e invece parcheggi orari, con delle fasce orarie, insomma in modo da cercare di andare incontro alle diverse esigenze, perché chiaramente se io sto lì tutta la giornata 3 euro alla fine una giornata ci sto, ma se mi devo fermare un'oretta perché sto facendo la posa pranzo, 3 euro su un'ora inizia a essere un po' più importante come spesa che va a incidere su un pranzo. Chiedevamo solamente una maggiore partecipazione da parte dell'amministrazione a questa scelta. Speriamo di riuscire ad arrivare ad una soluzione, anche perché rispetto allo scorso anno in cui il parcheggio veniva messo a pagamento solamente nei weekend e nel settimana di ferragosto, adesso è tutti i giorni, quindi chiaramente se una famiglia decide di passare al mare più giorni e parcheggia lì perché arriva da fuori, chiaramente lì i costi aumentano.